Articolo 4 si sta radicando nel territorio di Siracusa, il nostro movimento sta riscuotendo grande interesse e grande successo, abbiamo numerose richieste di adesioni che stiamo valutando, oggi abbiamo ufficializzato l'adesione di un gruppo di amministratori di Sortino particolarmente esperto e volenteroso di mettere in atto quelli che sono i nostri programmi politici basati sulla concretezza, sull'azione amministrativa efficace al di fuori di ogni logica di partito, il movimento Articolo 4 è un movimento che sta crescendo, che sta a interpretare le esigenze delle persone e metterle in atto in un modo moderno, sviluppando tutte le potenzialità dei territori e facendo particolare attenzione ai territori, questa sarà la nostra politica anche a Siracusa, valorizzando tutti i nostri territori nel modo migliore.